cari amiche e cari amici buon pomeriggio buon pomeriggio e grazie per la vostra presenza e soprattutto per chi diffonderà anche questo video dalla pagina del movimento dal movimento civico no è un vero movimento civico diciamo la verità perché movimenti civici si nasce con alcune prerogative siamo un movimento stursiano in tutto e per tutto e di conseguenza dobbiamo attingere anche al coraggio di don luigi sturzo il coraggio della verità e parliamo di sanità la sanità in questo momento sta alledendo praticamente tutti i diritti fondamentali dell'uomo ma quali i nostri donne e uomini di buona volontà che pagano i tributi che si fanno carico di pagare i tributi nonostante tutto soprattutto nonostante quest'anno veramente incredibile che ha completamente abbattuto anche l'economia di tantissime famiglie di aziende della microeconomia sociale hanno chiuso per davvero lo abbiamo visto i negozi per strada ma hanno chiuso in italia milioni di aziende milioni di piccole aziende dietro le quali ci sono le famiglie quindi c'è gente che deve portare il pane a casa per mantenere le proprie famiglie portare i propri figli nel mondo degli studi e sostenere quella che è la vita in fondo la vita bene noi invece cosa facciamo paghiamo le tasse ne paghiamo tante siamo una delle uno dei paesi più tassati in tutto il mondo per mantenere questa gente nel mondo della sanità che oggi è chiamata davanti alla magistratura a rendere conto di tutto quanto sta accadendo la situazione non è grave è gravissima è veramente grave però io oggi ho voluto semplicemente commentare in occasione di questo nostro caffè il caffè c'è sempre perché non dobbiamo mai perdere il gusto di intrattenerci tra amici e della convivialità per discutere le cose che poi sono estremamente serie pochi minuti amici pochi minuti per ragionare come mai la maggior parte della classe politica regionale completamente scomparsa come mai tutta la politica nazionale non parla più del disastro della calabria della sanità in calabria dopo l'esplosione del diciamo dello scandalo covid 19 nella città di cosenza in calabria grazie poi tra l'altro a tutti quanti noi del movimento civico che siamo andati con una costanza incredibile davanti al pronto soccorso davanti all'ospedale abbiamo scritto al presidente della repubblica al presidente del consiglio al ministro della salute al vice ministro sileri insomma abbiamo scritto ai prefetti abbiamo denunciato ai procuratori di catanzaro procuratore di cosenza insomma dopo tutto questo alla fine ritorna peggio di prima per fortuna amici amici per fortuna alla fine la procura della repubblica di cosenza esce con una operazione che ha veramente dell'incredibile cioè se l'avessimo letta su un giornale non avremmo creduto fosse vera invece vero il procuratore della repubblica di cosenza mario spagnolo dichiara abbiamo scoperto il vaso scoperchiato il vaso di pandora per dire questo annuncia questo è l'inizio di un'indagine non è finita quindi che cosa chissà uscirà da questo mondo della sanità domani mattina alle 9 30 saranno ascoltati dal gip manuela gallo e il dottore belcastro lo abbiamo visto belcastro con il suo volto impassibile di vetro nel programma di giletti diceva ma io sono a posto con la coscienza e con quella della mia famiglia ma dottore belcastro lei però non è a posto con la coscienza di tutti i calabresi che siamo anche noi perché se lei sa le cose le deve dire ora finalmente si troverà di fronte ad un magistrato e magari avrà l'opportunità di dirle ma anche zitto ferrari insomma si troveranno domani e anche quei commissari che noi abbiamo visto sfilare in televisione e che dicevano come cotticelli ma io non mi ricordo non so neanche se c'ero quando c'ero insomma per davvero siamo in una situazione così tanto lacunosa e così tanto disperata che per davvero non ha più niente di credibile se non fosse per gli altri giudiziari bene i bilanci truccati è da aggiustare per tentare di mascherare i conti non in ordine e rappresentare numeri e dati assai di formi dalla realtà dice il procuratore della repubblica spagnolo che sarà difficilissimo rimettere a posto questi conti immaginate che cosa ha trovato la procura della repubblica di coscienza e la guardia di finanza l'azienda sanitaria cosentina ridotta ad un cumulo di debiti nascosti e buchi di bilancio a cui il management cercava di mettere una toppa con artifici contabili spesso accompagnati da errori grossolani nessuno riusciva a far quadrare i conti come denunciato più volte in questi anni dai sindacati ma tutto sembrava poter filare liscio fino a quando la procura di cosenza non ha bussato e non ha detto cucù eccoci qua bene insomma sono stati chiamati in tanti in tanti guarda non faccio il nome perché sono tantissimi piegherei praticamente un un quarto d'ora ma tutti i dirigenti dell'asp che sono citati li trovate su tutti i giornali io sto leggendo tra l'altro un frame delle corriere della calabria dice praticamente tra i destinatari c'è proprio scura cotticelli e ci sono chiamati appunto dalla dal gip manuela gallo antonio belcastro e all'epoca dei fatti dirigente generale del dipartimento tutela della salute della regione dirigente dell'asp bruno zito che sarà difeso dall'avvocato luca peluso e vincenzo ferrari e mercoledì 10 febbraio toccherà invece ad altri indagati tutti ovviamente si difenderanno dalle accuse mosse a vario titolo nei loro confronti per carità noi ovviamente siamo garantisti però come abbiamo già detto noi non vogliamo garantire per coloro i quali dovessero avere delle gravissime responsabilità su tutto questo anzi lo diciamo chiaro il movimento noi lo diciamo chiaro si costituirà parte civile su tutti i processi perché dobbiamo vederci chiaro dobbiamo capire che cosa sta accadendo realmente e poiché siamo un movimento civico che sta difendendo soprattutto i diritti umani la dignità del lavoro chi sta dentro gli ospedali e viene minacciato perché chi sta dentro gli ospedali viene minacciato dai commissari perché non debba parlare invece noi dobbiamo far sì che si faccia il contrario che chi è dentro gli ospedali debba parlare debba denunciare le cose che non vanno perché negli ospedali a parte che li finanziamo noi cittadini li finanziamo tu io li finanziamo tutti quanti noi ma negli ospedali ci finisce la gente debole più debole che poi viene curata dei medici che secondo alcuni commissari lo abbiamo visto è uscito su tutta la stampa vengono minacciati dai commissari perché non debbano parlare cosa gravissima ci facciamo promotori appena si creerà questo nuovo governo di una proposta di legge e cioè nelle aziende sanitarie e medici devono parlare e se non parlano commettono un reato al contrario non che vengono minacciati dai commissari per non parlare bene abbiamo casi recenti che noi abbiamo anche denunciato noi nel dare anche il benvenuto al nuovo commissario di cosenza dell'azienda ospedaliera diamo il benvenuto a per davvero e seriamente come l'abbiamo fatto con il commissario longo come l'abbiamo fatto con tutti coloro i quali noi ci siamo fidati magari non abbiamo visto risultati ma ci siamo fidati ma vogliamo dire a questi commissari non minacciate i medici perché forse loro non vi denunceranno noi lo faremo di sicuro è certo che lo faremo come abbiamo già denunciato tutte le malefatte che abbiamo trovato all'interno del pronto soccorso di cosenza dell'ospedale e non solo le abbiamo già denunciate non ci manca il coraggio perché non è una questione di coraggio denunciare denunciare le cose che non vanno è una questione di intelligenza non di coraggio perché se non siamo intelligenti continueremo a farci negare i diritti continueremo a pagare queste persone addirittura attenzione riportiamo tutto alla a quanto ha dichiarato il procuratore di cosenza ha detto sarà impossibile mettere mano a questi conti immaginate che cosa c'è lì dentro una grande cloaca una grande cloaca l'azienda sanitaria di cosenza all'interno dalla quale accade di tutto e della nostra sanità una sanità che in silenzio uccide perché non dobbiamo dimenticare un medico un medico valentissimo cui tutti quanti eravamo affezionati per un motivo per un altro si è buttato da una finestra si è lanciato da una finestra e la moglie altro medico dell'ospedale di cosenza ha detto perché una morte come un come un operai che cade da un'impalcatura una morte dovuta all'altissimo stress che si viveva dentro questo ospedale che si vive dentro questo ospedale noi sappiamo che ci sono medici che vengono messi con le spalle al muro e minacciati so perché vorrebbero dire la verità e perché la dicono la verità perché dicono quali sono le condizioni sfiaccanti di questo ospedale proprio colleghi di quella persona che si è lanciata nel vuoto e ha abbandonato questo mondo non sappiamo se per un mondo migliore ma questo qui intanto era bello per lui perché aveva un bellissimo lavoro una bellissima famiglia figli moglie bene di fatto questo medico si è lanciato nel vuoto perché per lo stress lo stress che qualcuno vorrebbe dire che non c'è e invece c'è lo stress ci sono i malati di covid ci sono i morti di covid il covid non è passato stiamo guarendo ma ci vuole ancora molto tempo dunque dobbiamo aiutare la nostra sanità e soprattutto in questo momento io vi prego cari amiche cari amici non li votate più non possiamo votarli non ce ne sono salvatori guardate in politica non ce ne sono santi in politica ci sono buoni diavoli ma non santi non ci sono santi che possono salvare la nostra terra ci vogliono idee idee intelligenti ma al momento non ce ne sono quindi attenzione o portiamo in campo una vera forza politica intelligente che abbia al centro il bene comune l'onestà l'incorruttibilità o sarà impossibile amici amici sarà impossibile staremo sempre qui a parlare noi parliamo 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 almeno noi nessuno ci potrà dire che siamo populisti perché siamo popolari siamo struziani e poi perché i populisti non ce la mettono la faccia noi ci stiamo mettendo la faccia noi sì noi sì che ci stiamo mettendo la faccia noi sì che vogliamo vedere per davvero per davvero una classe politica nuova un modello di fare politico fare politica completamente diversa avete sentito cosa ha detto papa francesco proprio in queste ore se non la smettiamo di pensare all'io e se non ci ritroviamo dentro il noi dentro il noi sembrava veramente il nostro spot il nostro spot pubblicitario le cose non cambieranno mai perché c'è troppo egoismo noi abbiamo candidati che sono io 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 l'unione di tanti candidati che dicono io non fa il noi fa ancora lì un io più grande dobbiamo rinunciare all'io dobbiamo pensare alle prospettive del domani per tutti quanti noi perché tra un anno due tre si possa già iniziare a rivedere la risalita perché altrimenti quando la vogliamo rivedere questa risalita fra 40 anni 50 anni 60 anni vogliamo andare in cielo prima di vedere il successo dei nostri sacrifici no lo dobbiamo vedere ora e dobbiamo mandare a casa come ha avuto il coraggio di fare il procuratore della repubblica che ha fatto un'azione importante dobbiamo anche noi fare la nostra parte dai cittadini altrimenti è vero quello che dice nicola gratteri che si è lamentato della borghesia dell'intelligenza perché questa è la zona grigia del nostro mondo quella parte che si definisce intelligenza però poi quando deve prendere una posizione dice ma è meglio di no è meglio che aspettiamo non dobbiamo aspettare nulla i diritti umani lo richiedono la tutela dei diritti di tutti quanti noi i tuoi i miei tutti lo richiede e questo è il momento in cui noi dobbiamo cambiare le cose fermiamo un attimo tutto fermiamo fermiamo tutto le persone che ci hanno portati a realizzare questo sfacelo totale non le possiamo più sostenere non le possiamo più sostenere come fanno a presentarsi si ricicleranno attraverso altri nomi noi li diremo tranquillamente attenzione concludo concludo questo bellissimo caffè di oggi il caffè il gran caffè dei popolari dice un consigliere regionale quasi 2 miliardi di euro disponibili per la sanità calabrese mai spesi da oltre un decennio parole di una settimana fa e in mezzo ci sono i soldi per adeguare o costruire nuovi ospedali in mezzo al caos pandemia i problemi della sanità calabrese restano praticamente gli stessi a partire da quel miliardo 756 milioni a disposizione ci sono ma non li vogliono gli ospedali avete visto cosa è successo nonostante tutto nonostante ginostrada bravissimo per carità nonostante il nuovo commissario nonostante tutto avete visto riaprire gli ospedali i politici hanno solo fatto chiacchiere riapriamo qui riapriamo lì non volevano l'ospedale da campo riapriamo questo riapriamo quello al momento è tutto fermo ma come è possibile che sia tutto fermo non è possibile se c'è gente che ha la testa che funziona non può essere che sia tutto fermo dunque c'è un problema proprio nella classe politica molti sindaci sono con le spalle al muro totalmente al muro questi sindaci non dovrebbero votarli più questi partiti perché non cambierà niente i grandi sodalizzi civici è questo il momento ma il vero civismo non chi viene qui per prendere lo stipendio chi veramente vive in questa terra chi ama questa terra per davvero chi ci sta mettendo la faccia sono queste le persone che bisogna portare avanti soprattutto con grandi 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 competenze perché perché il problema nell'epoca monti attenzione quando si dice che draghi uguale a monti è una follia perché mentre monti doveva trovare i soldi spremendo noi italiani i nostri genitori i nostri nonni gli ammalati i disabili va bene mentre monti doveva fare questa operazione perché non c'erano soldi ora draghi invece a tonnellate di soldi da spendere tonnellate di soldi da spendere miliardi di miliardi e secondo le più prestigiose fondazioni che si occupano di materia finanziaria l'italia per come è conformata la pubblica amministrazione nostra quella italiana non è in grado di spenderne neanche la metà dunque siamo in una situazione completamente al contrario diametralmente opposta ma che ha un problema la pubblica amministrazione la nostra classe politica non sono in grado di spendere sono in grado di parlare sono in grado di fare altro ma non sono in grado di spendere in maniera dignitosa questi danari ecco perché noi non ci possiamo permettere da oggi da questo momento in poi né nelle amministrative né nelle regionali di portare chiunque o soprattutto chi ha sbagliato o soprattutto chi reincarna le persone che sanno che non si possono presentare perché almeno hanno la faccia di dirlo allora amiche e amici la sanità in calabria è la grande cloaca e noi dobbiamo evitare di sentire ogni giorno questa puzza un caro saluto a tutti vi prego condividiamo questo video non perché abbia bisogno di essere famoso dopo dieci anni direi uno se non lo sono stato già non lo diventerò più ma per portare la buona parola io parlo a nome di tutti perché mi arrivano come vedete i fogli che io leggo e poi ovviamente recito ma ci metto il mio ci metto il cuore e ci metto soprattutto la mia faccia un caro saluto a tutti e buon pomeriggio speriamo bene